Carissimi followers, buonasera. Stasera ho pensato di intrattenervi aprendo una nuova rubrica Impariamo con Mary Perry. Ed ecco il quiz che vi propongo. Tuo padre ti regala 50 euro e tua madre fa altrettanto. Tu compri un golf da 97 euro, quindi ricevi di resto 3 euro. Decidi di darne uno a tuo padre, uno a tua madre e uno lo tieni per te. Quindi è come se ti avessero dato 49 euro tuo padre, 49 euro tua madre. Ma 49 più 49 fa 98 più 1 euro 99 e quindi dove è rimasto 1 euro? Se questo quesito vi ha intrigato, non perdetevi le prossime puntate di Impariamo con Mary Perry.